Con un budget a disposizione pari a 200.000 euro, ad Arezzo è possibile comprare una casa di circa 85 metri quadri in centro, 133 in una zona semicentrale ed infine 190 in periferia. A dirlo è il Sole24ore che con una pratica infografica interattiva ha presentato il panorama del mercato immobiliare nelle principali 50 città italiane. Ma l'istantanea che ne fuoriesce non è delle più edificanti, anzi marca un netto segno negativo per quanto riguarda i prezzi delle case, in continuo calo nel quinquennio 2010-2015, ad essere maggiormente penalizzati nella città di Arezzo come nel resto della penisola le zone semicentrali e periferiche. L'interesse per l'acquisto di immobili è infatti diminuito sempre più nel corso del tempo. Le trattative di compravendita sono precipitate in 5 anni a circa il 45% contro il dato nazionale che segna un meno 30%. In calo anche i prezzi delle case, fortunatamente non della stessa entità delle compravendite. L'indagine del Sole24ore suddivide la città di Arezzo in tre aree, una centrale, una semicentrale ed infine una periferica, senza distinguere però quelle di minore o maggior pregio. Appare immediatamente evidente dal grafico come ad essere maggiormente penalizzate siano le zone periferiche che registrano un calo del 27,59%. Per le zone semicentrali la svalutazione invece arriva al 21,05%, molto meglio per il centro città dove il calo si ferma al 14,55%. Delle realtà toscane presi in considerazione dall'indagine del Sole24ore, quella retina è quella che mostra le maggiori criticità. Oltre ad Arezzo sono state prese in considerazione Firenze, Prato e Livorno.